I numeri non sono confortanti, ma la maggioranza del sindaco Bottaro riesce comunque a superare indenne il pericoloso scoglio degli equilibri di bilancio. Ieri il Consiglio Comunale di Trani ha licenziato il provvedimento con soli 15 voti favorevoli. Alle assenze in aula, già annunciate da tempo di diversi consiglieri del centro-sinistra, si sono aggiunte le astensioni al momento del voto dei consiglieri Francesca Zitoli e Mimmo De Laurentis. Otto invece i voti contrari delle opposizioni. Sugli equilibri di bilancio pendeva il parire non favorevole dei revisori dei conti, superato solo da un chiarimento tra i dirigenti alle finanze e all'urbanistica che ha permesso alla maggioranza di non arenarsi sul provvedimento, a fronte della richiesta delle opposizioni di ritirare il punto all'ordine del giorno vista anche l'assenza in aula del Collegio dei Revisori. Più compatta la maggioranza con 17 voti favorevoli nell'approvazione di 11 debiti fuori bilancio per un totale di 88 mila euro, tutti derivanti da sentenze passate in giudicato. All'unanimità dei presenti in aula viene invece riformulata l'adesione alla strategia rifiuti zero, già adottata nel 2014, con cui si incentivano attività come il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti per evitarne il conferimento in discarica o l'incenerimento. La delibera si pone come primi obiettivi da raggiungere l'adozione del porta a porta su tutto il territorio comunale il 65% di raccolta differenziata entro il 2017. Sul punto si è aperto nuovamente il dibattito, già inaspritosi negli scorsi giorni, tra le minoranze che accusano l'amministrazione di non voler dare seguito alla promessa di chiudere la discarica comunale e la maggioranza che ha invece ribadito di voler mantenere il suo impegno. Prima dello scioglimento il Consiglio ha approvato anche una serie di regolamenti di competenza consigliare. Grazie.